Ad Arezzo la prima consegna ecologica di regali a mezzo Cargo Bike Bullet, la speciale bicicletta per il trasporto della merce che arriva dalla Danimarca ad inaugurare il servizio è stata la Conf Commercio nell'ambito del progetto di mobilità sostenibile Arezzo Cambia Strada e del Festival Eco Street I primi doni, recapitati in Piazza della Libertà al sindaco Giuseppe Fanfani al presidente della provincia Roberto Vasai e al presidente della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni. Sì, il nostro progetto di Eco Street è ambizioso, guarda avanti, vuole cambiare strada e spero tanto che la città ci segua e dia supporto e successo a questa iniziativa. A Natale è simpatica l'idea di consegnare i regali, far consegnare i regali da due volontari a Otto, Fioroni e Luca, in sella queste due biciclette per tutti coloro che verranno a fare acquisti, ci onoreranno di fare acquisti di Natale nel centro storico. Ecco, quindi è un servizio in più per lo shopping di Natale nel centro quindi? Certamente, un'attenzione ecologica, rigorosamente ecologica per cercare di dare un servizio in più ai nostri utenti.